Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi sono qui perché voglio raccontarvi un'altra piccola mia esperienza paranormale che mi è successa molti anni fa Il video precedente che ho fatto faccia a faccia con il fantasma non è riuscito a fare 100 like ma ne ha fatti più o meno 65 se non vado errato Quindi io vi chiedo altri 65 like per il prossimo appunto video E niente andiamo a noi Un bel giorno ragazzi decisi con molti carissimi miei ex amici di andare in un ospedale abbandonato Dove praticamente in questo ospedale abbandonato noi non ci andavamo per entrare cioè nel senso per visitarlo eccetera eccetera Ma ci andavamo per giocare a Softair perché lì comunque è molto grande e c'è uno spiazzale infinito E quindi usavamo lo spiazzale dietro questo ospedale abbandonato però sempre dentro il recinto La recinzione scusate Dove praticamente giocavamo a Softair come vi ho appena già detto Allora cosa è successo? Eravamo io e un mio carissimo amico, cugino, come definirlo non so però comunque cugino va bene lo stesso Che si chiama Ivan Ed eravamo praticamente entrati dentro l'ospedale per appunto perché nell'ospedale c'erano dei balconcini E delle finestre attaccate dentro le stanze Questo ospedale abbandonato appunto si sentivano, si diceva che si sentivano delle piccole vocine di bambini Che a volte piangevano oppure chiedevano aiuto e robe varie Era un ospedale per bambini, una roba del genere, non so più o meno che cacchio era Fatto sta che entriamo e saliamo al primo o al secondo piano, mi sembra al secondo piano E salendo al secondo piano ragazzi è incominciato il terrore più totale Perché cosa è successo? Vi spiego Allora c'erano due vie, una a destra e una a sinistra Io cosa ho fatto? Ho detto a mio cugino Ivan, gli ho detto guarda tu vai a destra che io vado a sinistra Va bene, va bene, va bene Quindi io sono andato a destra e ero da solo E c'erano molte stanze verso la destra, c'era il corridoio proprio E molte stanze verso la sinistra Il mio cugino andava verso la sinistra, entro dentro una stanza E si apposta lì dove c'era la finestra a minare le persone comunque che stavamo giocando Io camminando piano piano ragazzi E qua arriva la parte, quello che è successo ragazzi è agghiacciante Agghiacciante ve lo dico, ve lo posso assicurare che è agghiacciante Sento qualcuno piangere Allora io tutta ad un tratto mi è venuto un brivido sopra la schiena, assurdo Infatti ho detto oh mio dio che cazzo sta succedendo E chiamavo Ivan, Ivan E lui non mi dava retta, non mi dava conto Entro in una stanza e vedo una persona Proprio una persona messa tutta accucciata A guardare la finestra Però non si vedeva la persona, si vedeva solo il dietro E allora ho detto ah oh Ivan Perché ero convinto era lui raga Però cioè guardandolo con quel velo bianco Dicevo ma forse che aveva una mimetica o un qualcosa dentro lo zaino Perché eravamo con gli zaini, tutto postati proprio Boh, pensando che fosse lui Ivan, Ivan di qua, Ivan di là Ragazzi Ragazzi mi viene da ridere quando lo racconto Perché cioè Io in quel momento mi sono cagato addosso Ma non ho cagato addosso Per finta, cagato addosso per davvero Che facevo gli scalini per correre a 4 a 4 E gli scalini nel senso quando scendevo Poi il bello è che la scala non aveva le, come si chiama, il coso per poggiarsi la mano per scendere Era proprio senza, c'era tutto il vuoto al centro e c'era questa scala che girava Capito? E allora Entro dentro a sta stanza, raga E c'era questa persona messa lì accucciata Raga Non l'avessi fatto mai Gli ho messo la mano nella spaglia Ho detto Ivan Si è girata questa persona Verso di me Io ragazzi in quel momento Ce l'avete presente? Pietrificato? Pietrificato Raga vi dico solamente che appena si è girato Purtroppo non posso dire quello che è successo realmente Perché probabilmente su youtube mi banneranno robe varie Quindi mi sa che non lo posso dire Però vi dico solamente che quando questa anima o quello che sia, fantasma o quello che sia Si è girato, raga Io in quel momento ero una pietra Una pietra avevo paura Tanta tanta di quella paura Perché davanti alla mia faccia Ho visto un qualcosa che nella mia vita non avevo mai visto Non avevo mai visto in tutta la mia vita, raga Non avevo mai visto Mai Cioè pensavo che ci fossero solo nei film Nei film horror, queste minchiate Queste cose qui che io non credevo Da quel giorno in poi ragazzi Ho creduto in tutto quello che potesse succedere Delle esperienze paranormali, eccetera, eccetera Ed raga Io vi posso dire che ho visto la Cioè Potreste pensare che è una cavolata Perché probabilmente lo potrete pensare Lo potreste pensare Però a me non importa Perché c'ero io quel momento lì E so realmente quello che è successo Ragazzi, io ho visto La faccia del diavolo Cioè proprio davanti a me Davanti a me, raga Io ero pietrificato, ero immobile Ci mancava poco che mi facevo pure la pipì Cioè mi facevo pure la pipì addosso, raga E in quel momento mi sono girato E proprio so scappato Anche perché Quando si è girato davanti a me Poi, cioè, non ho più visto niente Cioè è come se in quel momento Fossi pietrificato con gli occhi chiusi Senza vedere niente Mi sono girato Camminando piano piano Attraverso la porta Cioè, no, attraverso Che l'ho attraversata Cioè Attraverso il senso Camminando all'uscita della porta E poi Da lì in poi Cioè Mi sono un po' tranquillizzato E sono sceso Ho fatto gli scalini a 4 a 4, ragazzi Mi saltavo a 4 a 4 per scendere E buttavo voci Dicevo Ivan, Ivan, scendi Muoviti, Ivan Cioè continuando a buttare voci, raga Questa è stata una mia esperienza bruttissima Che ovviamente Sapevamo Solo io E comunque Ivan Che gliel'avevo raccontata E, raga Io vi posso dire che Purtroppo Ripeto Non avevo ripreso Non avevo niente Perché comunque Non avevo una telecamera O qualcosa per registrare tutto Però, raga Vi posso assicurare Che è la pura e semplice verità Io non sono su YouTube Per sparare cavolato Perché non avrei motivo, raga Non avrei senso Non avrebbe un senso E, ci sono molte cose Che mi sono successe E, raga Che vi devo dire Cioè Alcune cose Non le posso dire per privacy Perché Non si possono dire Però Quelle piccole cose E grandi cose Che mi sono successe A me stesso Le posso dire Quindi Ve le dico Senza alcun problema Quindi Se a questo video, ragazzi Arriva a 65 like Vi porterò un altro video Dove vi dirò Stavolta Un'altra cosa Un'altra cosa Che mi è successo Sempre in passato Potrebbe essere Non lo so Potrebbe essere Agghiacciante Come non lo potrebbe essere Però comunque Sono delle piccole cose Che io so Che mi ricordo Che mi sono successe Quindi Se questo video vi è piaciuto Ragazzi Mi raccomando Mettete tanti like Arriviamo a 65 like Anzi Facciamo una cosa Arriviamo a 70 Se questo video Arriva a 70 like Vi porterò l'altro video Mi raccomando ragazzi Un bacione Dal posto del caos 92 E noi ci vediamo Al prossimo video Yuhuuu Yuppi 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 E noi ci vediamo